Chi è l'opposizione deve cercare una scusa per criticare e ne dobbiamo fare. Quindi noi adesso facciamo e l'opposizione giustamente quando si sveglia la mattina deve cercare una scusa per poter dire che non va bene. È legittimo, è giusto, l'abbiamo fatta anche noi quando eravamo all'opposizione, magari con più correttezza istituzionale, ma lo comprendiamo. Non ci preoccupiamo di questo, quello che noi dobbiamo fare è fare le infrastrutture che servono alla nazione. Ma chi è l'opposizione dice che il ponte sullo stretto è una battaglia di Salvini che non viene vista bene all'interno della maggioranza dalle altre forze politiche ha ragione o non si sente di risentire? Forse a memoria corta, credo che la battaglia del ponte sullo stretto sia una questione che il centrodestra può portare avanti e realizzare da anni. Berlusconi ne parlava, che io avevo capelli lunghi, quindi un'altra epoca fa. Quindi è una battaglia, è una convinzione che il centrodestra ha sempre portato avanti perché serve alla Sicilia, serve all'Italia per collegare sempre di più il sud dell'Italia e il resto d'Europa.